PANZER 8 GAMER PANZER 8 GAMER No veramente Bella riga Ma come lo potevi 3 secondi prima Ah infatti Madonna Maggogna Che livello è Ale? Ale non me lo dico Che livello è? Riccolagg Barricate la stanza Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Fino spinato pronto Noi dopo facciamo una tattica Credo che mi serviva che prendi castle Io Eh Beh Il drone nemico ha trovato il contenitore di biorischio Che? Guarda non mi alzano lì che non mi ricordo che si sono Hanno messo tutti gli operatori quella dell'inizio gratis lo sapevi? Non ci può mai me aperto Da rinforza qua Rimangono 10 dispositivi in campo Restano 5 secondi Ho piazzato il dispositivo Ragazzi non gioco più in classico il mickey Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio No ieri ha abbandonato la classificata Ci l'ho fatta perdere Sì ma comunque non ci gioco mai più con te in classificata Eh come te Per te? Ma che stai dicendo? Che stai dicendo? Che mira rega Nooo No no rega Stavo uno ferito Stavo uno ferito Ale In garage ce ne sono tre Sono tutte e tre Uno ferito e altri due in piedi Eh già però non ci posso andare Dopo ci spoglio pure io Uno l'avevo ferito Uno l'avevo ferito Dove è? Beh allora mi ha fatto l'assista Oh potrò che con l'invidia è quello là Altra amica quello là Non c'ha il nome intero Ferimento Ferimento Contro uno Vittoria alla difesa Nemici eliminati Dai io stai vincendo il round Come una kill Una a zero Valeri questa partita Dobbiamo vincere Io mi prendo Ibono Ah si no Mi prendo turn height Mi manca il vecchio Fuse con lo scudo Madonna E' ovvio e ce lo ricordo Certo Trovate la posizione Del contenitore di orecchio Sì sono là Mi ha fatto le nove Ho detto Ben fatto Contenitore di orecchio Trovate Dopo 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 Ma dove su fortemente No io non ci vado su quel gioco schifoso Ancora dieci secondi Perché non posso giocare Da 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 Ma hai fatto il gioco 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 Eh? Raga Bella Bella Ciao ragazzi Ciao No riga non è possibile Questo qua fa wallbang Bella Troppo E' un po' difficile Non parli Non parli Ma non c'è la miseria Questo qua Un nuovo carico Bella Madonna Ragazzi E' un po' difficile A partire E' un po' difficile E' un po' difficile E' un po' difficile C'era qualcuno Difende la garage attività nemica bella per la vita ultimo nemico rimasto no il contenitore non due niente ragazza mira dentro l'obiettivo attenzione attenzione la trappola ora con tre fire attenta la cosa che fa fare quasi lo spacco spacca il muro la sinistra no no ma poi c'è ragazzo mettere trappole la c'è tipo di vita amici trappole no l'attaccante trago di vita ma si può mettere due trappole vabbè non penso c'era anche l'altro anche se non serve molto vabbè non penso che prendere la cacca non si è svinuto quindi barricate la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio ci sarà da divertirsi il contenitore di biorischio siamo a 10 secondi ancora il contenitore di biorischio a tutti i costi diciamo che non c'è a tutti i punti ma io la salvia purtroppo non c'è un intervento no raga sta maverick da fuori ma perché la spunti come la spunti io sono giù questo giù trovate e mi ha preso a caso poi tra l'altro ha svinato a letto guarda con l'altra per parlare questa volta ma se ne è pure andato con l'ordine no raga erano in una situazione veramente impossibile è durata bello bello l'hai preso l'hai preso l'hai preso l'hai preso no raga l'avevi preso non ci credo c'è 50 di vita allora che spero che no si vincali da l'altra parte a destra prefai per idone difensori eliminati non c'è ne fallita ah c'abbè a gioca più tattica poi lo devo prendere c'è la probabilità che se ne vadano su garage adesso sì e per questo è meglio il fioz vado da sopra mi prendo caccia allora era fermato eh c'è il vado già hai preso l'ingaro no ma se stanno il server c'è lì tolgo ritolgo i bandit cattaccia speriamo che l'hanno preso ma è sempre se non stanno sopra le notizie amministrative ma chi è abbandonato quello 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 perché ma che spazio di merda cioè questi spazio di merda per loro noi possiamo attaccare da tutte le fatti no ragazzi saranno se non è veramente stanno qua sì sono facendo ragione c'è la gamba a mezzo di fortuna proprio che potevano andare in garage in ufficio amministrativi e devono d'acqua meglio per noi vabbè meglio per noi qua ragazzo devo dividere ognuno per uno per ogni finestra silenzio controentriamoci a me su questo quando mi ce n'è c'è uno non sportato ancora cerca di fare spunti ogni poverso presciuto no riguardiamo volvengato non è poi ricassa una sopra droni attivato chissà eh non lo so rompevo il boccato adesso fa vizio fatto vizio grande tanto e vabbè e vabbè ragazzi sta pure alibi ciao a 30 di vita ma c'è qualcuno in sponso no da che schifo però voglio mamma mia ma c'è stato maestro ma c'è stato andando da là sta sopra l'alibi ragazzi ha 30 di vita l'alibi no non so dov'è e poi dico ma cosa fai a barricare sopra cosa fai a fare sopra no è uscito è uscito ancora unico tra la frana morire dov'è ma tu ah sopra il po il capito io devo vedere vai ecco 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 sta di cazzo ho fatto di gira dico ho fatto atterrare no 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 a fine che ha mutato butteri butteri rimane un nemico rimane un nemico non posso buttare mi fa solo rampinare da fondo no aspetta ma ne sono vici sono ma adesso si è riuscito a entrare mi proteggo io io porto so dove accetto o adbronarlo si si sta dove è maestro ragazzi bella stiche ritardati contro a fare un culo tutti quanti buono che coglie comunque che credino maestra cioè se deve aspettare dentro non uscire a prefare ma tanto io c'è un'altra tattica andavo sdraiato quindi qualcuno che prende bandit uno yeager alle due voi prendete bandit io mi prendo pulso pulso smoke eh ale vabbè mi prendo pulso no mattia raflizzo sperano la lancia qui difendite la stanza dobbiamo fare la mia rame che li dopo sì lo so stessa cosa sarebbe bandit ragazzi le mette il contenitore di più rischio metti in mira qua aspetta non ha detto sì sì dopo sì sì sul garaccio non è giusto c'è 9 non è recuperato dopo anche qua guarda la cosa non la posso mettere posso mettere qua no 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 ah dall'altra parte regale se qua finito youtube se la vinciamo la perdita con dischi di real no cioè quanti 24 diciamo 281 a marzo in due giorni ma fatti 210 ragazzi bandit bandit subito bandit ragazzi sapendo maverick i bale vanno subito 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 mettere mette marica si bravi da bruciato nico sposta di bavanti no ma solo io ho aperto un aperto non so jager no ragazzi forco non è morto ragà ma c'era aperto in mira no almeno no al mirano testa bravo tanto sventate ulteriori il nemico di prendere il contenitore di buon rischio si brava erano piccate erano piccate l'unica la calma di non andare in giro sotto non applicare un piccario è meglio non pitti davvero mentre non abbiamo stati la cordina rimaniamo rimani fermo se non è però abbiamo vinto intera rischiare è sceso già troppo di più non voglio scendere ancora vorremmo arrivare a niente ballare tanto dico zitto e nicolà mi hanno spettato non c'è dove il drone ecco perché se qua sopra ma claudio ricarico visto quando dopo quando più c'era presa così via così rimanere su scuola tanto c'è davvero dietro mira scale è la sua scuola dietro ancora nessuno david e non vedete arrivare dietro e la da dietro prima legge potete regalo presente a faggia con acqua era perso aspettando c'è mentre carica o dai che palle come non ho messo pure a terra no che mi erano messo a terra guardate che mi l'ho messo a terra l'avevo messo a terra l'altro ragazzi però se possano fare a questi vado 4.5 un altro guida mamma mia che pò lo so bandicata prendo qui c'è un tacere un termite vabbè servirebbe un tempo vabbè non fa niente da i bach servirebbe montano l'antra c'è un po' si vinto ma al proprio materiale di volti da dietro oh si mi è arrivato la dietro jacques no l'ho visto l'ho preferito l'ho preso in testa non è morto cioè raga l'altro l'ho messo a terra mancava solo quello è entrato così in prefermi a preso in testa non è arrivato in preferi perché se non aveva già veri con l'ha ammirato quando ti ha visto e ha sparato a caso e ti ha preso ha avuto la strada così ma così in testa per l'altro sono clash e mira anche l'avete scoppato che cazzo è molto attenti attenti se dovete andare sopra sopra ormai non c'è no che è lo so te l'ho detto più di raga aperto in mira due bandit tre belli tutte e tre belli perché la percorrere un uomo ho fatto pure messo bella bella mamma mia quando è da fare in cui ho fatto a uno di vita ma la presa cacchi rigare le fattimila si si è distrutto di quella non si è arrivata la prima serve per mano si è faccio termine no ragazzi no ragazzi non ho parole no ragazzi non so c'è uno di vita a berni per l'ex 8 bandit uno di vita cosa ora mira quanta vita raga non lo so la rega vogliono ecce c'è proprio la scienza e dovrebbe a morire doveva morire prima no ragazzi mi erga che mi guarda il drone mi ti sanno anche la giera clash si era fatto adesso con lo specchio di mira godo a una cosa è valentato adesso della scontato alete lo spettato raga i balai ma i balai ma la sosta cazzo da vera non lo spettate sta capire acqua maiale dell'ho spettato sta ancora qua aveva rifaggire alla ma ne ho anche solo capire per la gente mi fuori mi preoccupava ora così d'ultimo comunque ma ora che ho le persone che mi preoccupava ma sto faccio un fatto di merda madonna mi piace raga avremmo già vinti sono a nicolato nicolato poi c'entra pure antonio che siamo a 5 però non è stato in stanza si è ancora boccato sulla gola quel cazzo non lo facciamo qualche altra partita con loro va bene vale alete 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 sobravi oh di 1 kg non ho fatto fortino giusto? ehm no 2? ehm sì di 2 perché io mi sono fatto clash si 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 di 2 kg si si di 2 kg stava mirando a te e clash lo so fatto sulle scale ok sono in archivica si però clash non è morta per un anno sta in giro sta in giro sta nell'archivica saccappando è difficile dipende oh ragazzi 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 è andata di culo ragazzi è andata di culo ragazzi è andata di culo ragazzi su sledge basta che lancio la bomba non certo quanto ora la l'arima tolleria cosa si trossa un modo rompe subito l'altro è che attenzione la barricione siamo pure vinti un round stanno tutti fuori allora continui individuato però un po' qui ci aspettate la capi controllo se sta qualcuno che protegge garage e riga genitori ok una è l'altra l'ultima non si sa che proste proste protegge garage prosto sta mi consiglio la testa la testa la tenda ricarica tanti di catturato chi è sledge non piccari sledge so io dietro lo sto sportando no cazzo ha fatto il drone tanti ragazzi tanti studenti da dietro da dietro da dietro da vero ricarico scusa ma l'avevi visto prima un caudio eh sì eh non l'ho ucciso però io ho tirato tanti colpi prostano nel morto sta frusta la garage ma puoi cantare no riga in un pochetto no dai non si può da ergo ma veramente sta con te ragazzi siamo giocando questa la traccia 10 angolo ma veramente siamo giocati con degli animali così che fanno i bugetti se c'è la scena c'è la è la parola mi ha dato agli a into la tua no una cosa ha liberato è stato eliminato e la stigione confetti come ci rompono scelgola torre che mira quest'altra ho prenduto la mira ma dono ma che rabbia veramente un testo ok archivio per l'anno della vendita sicura quando dice adesso li faccio vedere come si usa e la bassa un bassa sensibilità difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di mio davanti prima che eravamo eravate rimasti due video salmista ancora bloccato sulla garanta non riesco a mandato mi sta facendo un fatto ci va soprattutto io dobbiamo vincere ma con la strada a caso mi dispiace proprio tui ce l'ha fatto twitch non è che non è che non ci vuoi porti questi dei rinforzi mi rinforzi qua ragà ragà rinforzi qua il bano ragà il bano allora un rinforzo mi serve ricarico vai ragà non posso far niente non posso far niente dove? dove? vengo io vengo io vengo io qua 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 ragazzi è scelta me aspetta no ragazzi basta no ragazzi ascio c'ho 10 di vita ragazzi basta veramente di uno scocciato sto gioco di merda perché non muore ma faccio un wall bang o a te non di conto ascio c'ho 20 di vita per esagerare e mi capire a coper fuori l'abbiamo fatto la bovella sicuramente ecco lì ma spiace a bambino aperto se ne vanno una botola cosa è tutto dove non sanno per la porta ma dopo il conto non è tra abbiamo perso la parte ma io sono tanto questo che abbiamo perso argento 3 argento 3 argento argento 4 argento 4